Molteni però, Alessandro da Genova le ricorda che molti colleghi leghisti sono andati in carcere a portare solidarietà ai dissidenti padani che occuparono il campanile di Piazza San Marco, lei mi dirà, non erano presi... Ma le posso dire io? No, no, aspetta, fermo... Io sono stato uno di quelli che è andato in carcere a trovare un 75enne che nemmeno sapeva il motivo per cui era in carcere, è stato liberato immediatamente... Sì, però la domanda... Mi sembra che siano imparagonabili... Le contestano anche il fatto di non aver votato le leggi antiterrorismo... Le posso dire che non è vero, anzi, mi prendo e ci prendiamo il merito di averle migliorate, perché se oggi ci sono degli arresti, io il decreto antiterrorismo lo conosco molto bene, se oggi ci sono gli arresti e ci sono le misure cautelari sui reati nei confronti dei foreignist fighters, sui reati nei confronti dei lupi solitari, in Italia ce ne sono circa 400 potenziali lupi solitari pronti ad addestrarsi e a potenzialmente compiarrati di terrorismo. Se c'è la misura cautelare in carcere è grazie a un emendamento della Lega, a mia firma, che ha alzato le pene, perché noi sappiamo benissimo che in Italia con un reato con pena fino a 5 anni non puoi applicare le misure cautelari. Se ci sono le misure cautelari, anche per chi è potenzialmente un terrorista, o perché è addestrato, o perché è arruolato, ma comunque è finalizzato a compiarrati di terrorismo, è grazie a un emendamento della Lega. Ricordo anche che in quel decreto, ad esempio, c'è la possibilità di poter creare una procura antiterrorismo unita alla procura antimafia. Se non gli si danno soldi, risorse e funzioni è stata una legge assolutamente inutile.